Buon audience, nessuno ha parlato, quindi potrei concentrare, è stato molto buono, è stato molto buono. La discussione è andata bene, perché anzi era Brusio nella sala, che è abbastanza contenta perché ha fatto le cose che mi hanno chiesto, esatto, e ha detto che è contenta anche della sala perché c'è una buona acustica per il canto. E i giudici? The jury, how about the jury? The jury? The jury, I didn't look at them at all, I didn't look at them, I never look at jury or anything like that, I'm just thinking about the sense of what I'm singing and I'll try to be more emotional, because when you concentrate on the single people, it's never good, never good. Because sometimes somebody is or something like that and you're deconcentrated totally, so I would say, they were polite and they told me to sing the other pieces, so I sang two pieces. So I'm grateful for that, at least, for now. Ok, ha detto che hanno guardato Supermonde fatto in 2012, e comunque erano molto gentili, hanno chiesto di fare secondo test, ed è molto grata a loro per questo, preferisce concentrarsi su quello che vuole dare. Oh, thank you very much, grazie.